Dopo tre mesi andai per la prima volta all'ora di comunità. Resistevo seduta solo un'ora sulla sedia a rotelle. Dopo l'ora di comunità sono riuscita a scendere le scale per la prima volta dopo sette anni e mezzo. Musica Musica Nel 1988 a 31 anni mi ammalai di vari cittadini. Una malattia dell'infanzia che non avevo ancora avuto. Una settimana dopo pensai che fosse passato tutto ma iniziarono delle complicazioni con paralisi. Cominciò così. Sentivo un gran calore in tutto il corpo, forti mal di testa, febbre. Nel giro di un minuto tutte le forze mi abbandonarono. Avvertì un'estrema debolezza muscolare. Non riuscivo più a stare in piedi. Sentivo un gran calore nel corpo, come se qualcuno mi versasse del tè bollente su braccia e gambe. Non sopportavo nessun tessuto a contatto con la pelle, di braccia e gambe. Potevo solo stare sdraiata sulla schiena. Stavo distesa e senza cuscino. Solo in quel modo riuscivo ad evitare lancinanti dolori a braccia, gambe e fianche. Usavano dei cuscini per stabilizzare il collo, perché avevo fortissimi dolori. Ero anche allergica a quasi tutti gli alimenti. Se ad esempio assumevo zuccheri, io amo i dolci, si manifestavano intorpidimento, fatica, debolezza muscolare, prurito e un eczema sotto le ascelle. Tutto ciò era terribile. Parlavo a malapena. Talvolta non ci riuscivo nemmeno. Non sapevo mai prima se sarei riuscita a deglutire. A volte mi usciva dal naso. Non riuscivo più a dormire. Avevo delle aritmie e disturbi di concentrazione. Non potevo più trovare le parole giuste, nemmeno metterle nell'ordine corretto. Avevo febbre, tremori, convulsioni e diarrea. Le convulsioni erano così violente che mi causavano degli spasmi. Tutto il mio corpo veniva scosso e provavo una gran paura. Non sapevo se ne sarei mai uscita. Giorno e notte dovevano prendersi cura di me. Non potevo più lavarmi da sola, né mangiare da sola. Venivo imboccata. Dipendevo dall'aiuto degli altri. La cosa più brutta per me era che mentalmente ero lucida. Potevo ascoltare bene tutto, ma non riuscivo ad esprimermi. Era terribile per me. Quando le persone sedute accanto parlavano di me, credendo che io non fossi lucida. Io capivo tutto, ma non potevo rispondere. Era veramente un inferno per me. In quel periodo pensavo spesso non voglio più vivere così, non ne posso più. Anche se dentro di me volevo continuare a vivere. in quel periodo pensavo. a vivere. Poi un'amica mi parlò di Bruno Gröning. Lei aveva lo stesso problema, una forma di mielite. Questa amica stava su una sedia a rotelle e mi disse «Ho qualcosa, qui puoi ottenere la guarigione». Era il 1994. Non riuscivo a credere che ci fosse qualcosa del genere. Tuttavia, dopo nove mesi in cui potevo solo stare sdraiata a rimuginare, ho pensato «Che faccio ora?». Il neurologo mi disse «Non ti posso aiutare, devi trovare un'altra strada». Poi nel 4 giugno 1995 mi sono detta «Bene, lo farò. Farò ciò che gli amici mi hanno detto di fare. Getterò la mia malattia nella spazzatura, non la voglio più». Devo ammettere che tutto ciò mi spaventava, ci voleva coraggio. Poi ho anche detto «Bruno Gröning, non capisco nulla, ma ho bisogno di coraggio per sbarazzarmi della malattia, per consegnarla. Questo è quello che ho fatto». Proprio in quel momento avevo anche una foto di Bruno Gröning tra le mani. In quel preciso momento, dopo aver detto quelle parole, avvertì una forza che mi attraversava il corpo. Mi pervadeva, trasformando ciò che incontrava e provavo una tale sensazione di amore e di felicità che non provavo più da tanto tempo. Ho pianto. Si voleva insinuare la paura, ma sentii «Non devi avere paura, ricevi la guarigione, ne ero sicura». Ero già andata per la prima volta ad un'ora di comunità. Resistevo sulla sedia a rotelle per un'ora. E dopo l'ora di comunità, potevo di nuovo camminare. Potevo scendere le scale per la prima volta dopo sette anni e mezzo. Tre settimane dopo, nella successiva ora di comunità, già mi sedevo su una sedia normale, impossibile da sette anni e mezzo, perché sedevo a malapena sulla sedia a rotelle. E poi, alcune settimane dopo, ci fu un convegno in Olanda. Inizialmente avevo paura ad andare, perché non avrei potuto dormire sul mio letto speciale elettrico. Per sette anni non potevo dormire per niente, ma dopo aver ricevuto la forza, riuscii per la prima volta di nuovo a dormire. Così andai al convegno, e proprio in quel convegno ricevetti la guarigione completa. Da allora potevo di nuovo fare tutto. Ho giocato a ping pong, ho pattinato, ho giocato a badminton, ho fatto escursioni in montagna. Dopo iniziai a dipingere con un aerografo e conobbi un uomo meraviglioso, che poi è diventato mio marito. Ho potuto iscrivermi a dei corsi professionali presso un istituto tecnico. Prima lavoravo nel campo delle comunicazioni, ma adesso non mi sentivo più di riprendere. Adesso lavoro come fotografa di bambini e neonati. Naturalmente faccio anche foto ai matrimoni e di paesaggi. Amo farlo. Poi aiuto nel circolo degli amici, assieme a mio marito. Sono diventata una persona molto felice. Avendo ricominciato a mangiare come prima, ho rimesso su un bel po' di peso. Posso mangiare zuccheri e qualsiasi cosa. Ora non devo più stare attenta. Posso semplicemente fare tutto come una persona qualsiasi. E sono molto felice. Oh, io sono molto felice. Grazie. Oh, io sono molto felice. Grazie a tutti.